Grazie Presidente. Abbiamo fatto una discussione in Commissione lunedì, siamo stati d'accordo con le osservazioni del Presidente che ha giustamente detto che forse questa discussione l'avremmo dovuta fare prima e io credo che questo sia assolutamente corretto. Mi sono permesso in Commissione di poter dire che abbiamo in questo periodo delle attenuanti generiche. Uno è per la questione del quorum che ha ben spiegato il collega Fassina che ho apprezzato molto il suo intervento per tutto ciò che ha riguardato la mobilità, a meno per quello che riguarda le altre società partecipate, ma ho condiviso davvero molto quello che ha detto per quanto concerne ATAC. Noi ci siamo ritrovati in una situazione in cui eravamo assolutamente, sinceramente convinti che avendo presentato le firme prima del cambio dello statuto, c'era effettivamente questo quorum. L'abbiamo fatto con assoluta sincerità. Il nostro movimento è un movimento che addirittura ha messo nello statuto che gli referendum non abbiano più il quorum. Ma pensavamo veramente che quel referendum lo avesse. Poi ovviamente l'amministrazione sapeva che c'era stato un ricorso al Tarra e è ovvio che è prevalsa una posizione un po' attendista. La prima sentenza è arrivata a dicembre del 2019. Qualcuno dice che è una scusa. Dopo qualche mese è cominciata la pandemia. Devo dire che qualche motivazione per cui è prevalsa questa posizione attendista c'è stata. Poi oggi, col senno del poi, possiamo dire che avremmo potuto effettuare questa discussione forse un pochino prima. Ma certo non cambiava l'esito, come qualcuno vuol far credere in quest'Aula, perché questa maggioranza ha sempre dichiarato le sue posizioni su ATAC e la gestione di ATAC. Io mi rendo conto che possa dar fastidio a qualcuno i risultati che questa amministrazione ha ottenuto con ATAC. Una situazione che abbiamo preso oggettivamente difficile, molto difficile. Qualche volta mi viene da dire che siamo arrivati alla gestione di ATAC e abbiamo fatto un massaggio cardiaco, perché stavamo proprio al punto quasi di non ritorno. Un miliardo e 300 milioni di debiti. Io ricordo il giorno in cui in quest'Aula abbiamo preso la decisione del concordato preventivo in continuità. Devo dire che nessuno di noi l'ha preso a cuor leggero quella decisione, ma è stata una decisione importante. Una decisione che il senno del poi ha detto che era la decisione giusta, perché abbiamo salvato questa società. Oggettivamente l'intervento della sindaca, che ho apprezzato molto nei suoi contenuti, quando dice che società come Mercedes adesso investono e partecipano alle gare di ATAC. Questo vuol dire che effettivamente hanno il sentore che ATAC è in fase di risanamento. Quando noi stiamo assumendo altre persone, stiamo assumendo 800 persone ed erano anni che non si facevano assunzioni in ATAC. Questi sono tutti sintomi in cui ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta. Lo so, altri partiti qui in quest'Aula non lo vogliono ammettere. Dicono che il concordato preventivo è stato un fallimento. Al contrario, è stata una delle nostre azioni migliori. E una delle nostre azioni migliori è quello che stiamo facendo proprio con ATAC. E la nostra decisione di andare in questa direzione è stata una decisione assolutamente giusta. Per cui io mi rendo conto che agli altri non possa far piacere. Trovo veramente quasi imbarazzanti le dichiarazioni dell'ultimo intervento della collega Grancio che ci dice che voi avete avuto una posizione attendista perché volevate prendere una strada o l'altra. Non so in quale Aula abbia partecipato in questi anni, ma noi abbiamo approvato veramente numerosissimi atti che andavano nella direzione per dire che ATAC deve essere pubblica, che noi vogliamo questo e questo stiamo portando avanti. Io ci tengo però a dire che voglio ringraziare comunque i promotori del referendum perché tutti coloro che in città aprono dei dibattiti, anche ovviamente in questo caso con posizioni politiche diverse da quelle che abbiamo espresso noi, io credo che facciano una gran bella azione alla città perché aprire il dibattito, la discussione, è una cosa assolutamente importante. Per cui credo che questa azione sia stata comunque un'azione sana, un'azione positiva. Poi ci trova su posizioni completamente diverse. È stato detto più volte, vorrei sottolineare, un po' come ha detto la sindaca, anche il collega Fassina, Noi abbiamo un'esperienza a Roma di questa liberalizzazione con il privato che gestisce ancora una parte del trasporto romano. Devo dire che quando noi siamo arrivati a governare questa città i lavoratori di Roma TPL non percepivano lo stipendio da tre mesi. Uno dei motivi per cui riteniamo che la liberalizzazione sia sbagliata è perché noi ci troviamo nella situazione in cui quando viene dato un servizio ad un soggetto privato che partecipa a una gara, può partecipare anche il pubblico, ma nel caso in cui lo vince un privato... Si avvia a concludere, consigliere. Sì, grazie, Presidente. Quello privato si comporta oggettivamente in monopolio perché ha quell'area, ha quella zona e per tot anni ha quel servizio che viene dato in quella zona. Ebbene, quando succedono queste cose, guardate che le situazioni che sono accadute, in giro per l'Italia, dimostrano che delle volte in questi casi il privato ha lavorato anche in modo peggiore del pubblico. Noi vogliamo un pubblico che funzioni, non vogliamo quel pubblico degli anni passati, non vogliamo quel pubblico che io condivido, quello che ha detto la Sindaca, che in passato qualcuno forse ha spinto un po' nella direzione di far andare male le cose, magari per proprio dare il servizio al privato. Ma non avevano valutato che c'era una forza politica che si stava diffondendo per la città e che ha vinto le elezioni e con determinazione ha portato avanti che ATAC deve rimanere pubblica. Grazie.